Calano infortuni e morti sul lavoro in Campania. Nel 2012 gli incidenti sono stati poco più di 20.000, l'8,86% in meno rispetto al 2011. E' quanto emerso questa mattina a Napoli durante la presentazione dei dati del rapporto annuale INAIL per la Campania che si è svolta alla Camera di Commercio, presieduta da Maurizio Maddaloni. La significativa partecipata del sistema camerale che da tempo ha a cuore tutte quelle che sono le questioni della responsabilità sociale di impresa e sicurezza del lavoro, approfondimenti e rapporti con l'INAIL tendono da un lato ad inculcare nelle imprese, soprattutto nella nostra realtà fatta di piccole e medie imprese, la cultura della responsabilità sociale di impresa e il tema della sicurezza che è un valore. Gli incidenti mortali sono stati 52, 10 in meno rispetto al 2011 con una riduzione del 16,13% contro un meno 8,44% della media nazionale. La riduzione degli incidenti invece è in linea con il dato nazionale, meno 9,52% rispetto all'anno precedente. A presentare i dati il direttore regionale dell'INAIL per la Campania, Emidio Silenzi. Noi abbiamo molto puntato sulla prevenzione, anche quest'anno. Diciamo che quest'anno, nel 2012, c'è stato proprio un anno di consolidamento di quelle che erano le attività che erano state poste in essere negli anni precedenti. Il dato significativo che emerge è intanto una riduzione costante del numero degli infortuni, anche in maniera più significativa rispetto alla media Italia. Ma non solo questo, che potrebbe anche essere causato un po' dall'andamento del mercato del lavoro, che è chiaramente in crisi e nel 2012 si è sentito in maniera particolare. Ma soprattutto sul versante, che cerco sempre di sottolineare, delle malattie professionali.